Buonasera Angelo, partita stregata, gli episodi tutti contro, ma anche voi ci avete messo del vostro stasera. Assolutamente, e ci dispiace tanto di questa sconfitta perché volevamo vincere davanti ai nostri tifosi. Era una partita che non andava sbagliata, però il calcio è questo, è fatto di episodi. Il Bari aveva approcciato bene la partita, però il rigore poteva cambiare l'inizio, sbagliandolo. Poi loro hanno preso coraggio e hanno vinto, hanno sfruttato le loro occasioni. Noi non le abbiamo sfruttate, anche perché non credo che non abbiamo avuto personalità, anzi siamo arrivati tante volte su fondo a mettere palla dentro. Abbiamo avuto l'occasione del rigore, il mio colpo di testa parato miracolosamente dal portiere. Il calcio è fatto di episodi, se fossero andati dentro sarebbe stata una partita completamente diversa. Mi dispiace per l'errore del 2-0 perché sull'1-0 per loro eravamo comunque in partita e stavamo attaccando e mettendoli lì. Però gli errori fanno parte del gioco e vince chi sbaglia meno, mi dispiace perché la piazza di Perugia non si aspetta che io faccia un errore. Devo ritrovare la condizione migliore, vengo da un problemino e questo mi dispiace. Sono il primo a dover migliorare la condizione fisica, aiutare i miei compagni. Al primo minuto o lei o Sgarbi siete scivolati, poi quell'errore sul gol di Kedira, a che cosa sono dovuti secondo lei? Disattenzione, errori individuali oppure anche il campo che non è ancora in perfette condizioni sta influendo? Non ho rivisto l'azione del mio errore sinceramente, però io penso sia una questione più fisica che di campo. Non voglio dire che è stato il campo, anche perché io credo che non è in perfette condizioni e questo lo vedono tutti, ci mancherebbe. Però la squadra ha prodotto, non è che è stata tutta dietro a soffrire. Quindi, ripeto, il campo può essere una scusante, ma se la squadra non avesse prodotto, ma la squadra ha prodotto. Ha prodotto, è andata tante volte sul fondo, ha avuto l'occasione del rigore, ha avuto l'occasione del colpo di testa, ha provato su attraverso altre occasioni. Quindi, mi dispiace, c'è da lavorare, c'è da migliorare, c'è da capire perché abbiamo preso determinati gol e capire che questo è un campionato tosto. Sì, la domanda era proprio quella, perché in fase offensiva avete prodotto tantissimo, poi magari in fase difensiva vi è mancato qualcosa, quindi una condizione fisica secondo lei? Dobbiamo migliorare a livello fisico assolutamente e a livello mentale, perché poi la testa fa tutto. Però è un campionato tosto, tutte le squadre sono costruite sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto l'aspetto della corsa, della forza, in maniera importante. Tutte le squadre hanno speso, quindi dobbiamo entrare nell'ottica che ogni partita sarà dura, che incontreremo sempre giocatori di qualità, giocatori che fanno gol, che hanno le qualità per poterti far male. Quindi dobbiamo trovare le contromisure, anche perché noi abbiamo le qualità per poterlo fare, perché non è che ora siamo scarsi, l'anno scorso siamo stati la seconda miglior difesa e quest'anno abbiamo già preso 5-6 gol. Quindi c'è da capire il motivo, migliorare, aiutarsi tutti insieme, anche perché ci sono arrivati dei giocatori nuovi, amalgamarci e capire che è un campionato tosto. Perugia però è una piazza importante che merita di far bene. Ogni partita ha una storia a sé, lo sappiamo. Questo pezzo falso come è stato assorbito? C'è volontà di riscatto? Come hai visto i tuoi compagni? È normale che ci sia delusione per il risultato, perché non è che andiamo in campo per perdere. Parlare a fine partita non è mai bello, perché siamo a caldo dopo una sconfitta, è bene star zitti e poi a freddo chiariremo, vedremo dove migliorare, perché dal più vecchio al più giovane è giusto che si prenda le loro responsabilità e si migliori, e cerchi di migliorarsi. Però da domani. Ora non ha senso, ora c'è tanta delusione e amarezza per il risultato, perché ripeto, per me la squadra ha prodotto, non è che è stata dietro, ha avuto paura. No, ha prodotto, ha giocato a viso aperto, è normale che giocando a viso aperto rischi qualcosa perché le altre squadre hanno qualità importanti e quindi devi essere sempre al 100% per poter vincere ogni duello e non è sempre così. Devi sfruttare le occasioni che ti capitano perché il calcio è fatto di episodi e vince i fagò. Quindi c'è un po' da dire. Ritorno alla tua domanda, è inutile parlarne ora, la parlerò in domani e vedremo con l'allenatore che va seguito perché in passato ha vinto, quindi uno che vince non vince a caso. Va seguito e ognuno deve capire dove deve migliorare per poter rendere al massimo. A proposito di motivi che stiamo cercando e che riuscirete, ci auguriamo quanto prima a conoscere e a capire, ecco anche gli eventi di oggi, rigore sbagliato, parliamoci chiaro anche l'arbitraggio che insomma ci ha fatto un po' deluso. C'è il rischio di risentirne un po' psicologicamente, mentalmente secondo te? Cioè sia in futuro che dopo questa partita ovviamente immediatamente, c'è il rischio di mentalmente subirne delle conseguenze secondo te? Che era un campionato difficile, si sapeva, i rigori si fanno e si sbagliano, non c'è da crocifiggere uno che fa un errore ma c'è da costruire sull'errore, c'è da costruire sull'errore. Noi abbiamo fiducia in tutti gli attaccanti che abbiamo, ma ho sbagliato anch'io, 33 anni, ho sbagliato anch'io, ci sta, succede, tutti sbagliano. Sbaglia i Bonucci, sbaglia Chiellini, può sbagliare Angela, normale vince e sbaglia meno e questo ne siamo consapevoli. Errori pesano? Vediamo, cercheremo di stare uniti perché tanto di fenomeni non ce ne sono e si vince con il gruppo, c'è poco da fare. Questa è l'unica soluzione, si vince con il gruppo, non si vince con altre cose.